Com'è la tua città di care per i bambini e le famiglie? In mia città, in Mexicali, la realtà è che... Nella mia città, Torino. Sono di Viña del Mal. Bacca al Garbile e Bala Gzgire. In Kampala, Uganda, la mia città, tutti guardano ogni bambino come loro. Vuoi vedere loro crescere per essere responsabili. E tutti si sentono molto piaciuti quando si tratta di un bambino. Credo che parte della cultura mexicana è molto basata in la famiglia e in il soporte. E oggi per oggi credo che i bambini descansano in buona medida in questa red che uno installa in loro famiglia. Il spazio pubblico a volte non è il ottimo per che loro possano stare. L'orario di lavoro, le condizioni di lavoro di loro e le famiglie non facilita le cose. Ma la comunità, in ogni modo, presta un soporte per questo. Il tentativo di comprendere come le famiglie e i bambini possano avere una vita migliore nel corso del prossimo futuro è legato al stretto giro con il piano famiglie che sta essendo creato nella città. In questo piano si sta tentando di unificare vari servizi in modo che possano essere fatti e sviluppati in funzione dei bambini.